Ciao a tutti ragazzi, io sono Alepaga e ora saremo in questo nuovo vlog. Vi ho portato il primo vlog perché sono in vacanza alle Canarie e volevo farvi vedere un po' il posto e dirvi un paio di notizie che... un paio di notizie dei prossimi video e delle notizie. Allora, sono entrato in questa camera, diciamo se si può chiamare camera, e ho subito notato un letto stranissimo, non so se riuscite a vederlo, cioè è enorme, sembra tre piazze, una roba gigante, e poi il bagno, classico bagno, con il water, il lavandino, la doccia, tutto quanto insomma. Ma poi la cosa più bella, diciamo, è che, guardate un po', c'è, non so se riuscite a vederla, la cucina, c'è, ma proprio cucina, e con bicchieri, pentole, qua abbiamo anche i piatti, lì ci, qua sotto ci sono altre pentole, e sul tavolo c'è, nel cassettino del tavolo c'è tutte le posate. Poi abbiamo la tv, ovviamente, tv che sono riuscito a mettere in italiano, cioè, alcune cose sono in inglese, ma altre sono in italiano, strano ma vero. E poi abbiamo il mare, ecco qua. Ma la cosa più bella è che c'è anche una, diciamo, una piscina, sì, però la cosa più strana è che è una grande piscina alimentata ad acqua del mare, e una volta alla settimana la puliscono, è una favola. E volevo dirvi, ecco, lo specchio intanto, io che firmo, che gli faccio un vlog, e volevo dirvi che ci sono due nuove notizie. La prima è che non, quando tornerò dalle vacanze farò un nuovo video su, credo, sul computer, perché l'Xbox, per ora non ce l'ho, che ho dovuto lasciarla in un post, e quindi la farò poi, appena ce l'ho di nuovo. E lo farò giochi su computer, dato che mi sono aggiornato il sistema operativo a Windows 10, e proverò un po' i giochi. E mi scuso intanto per non aver fatto più video, ma a scuola mi hanno caricato i compiti delle vacanze, cioè, il giorno facevo solo quello, avevo un'oretta per uscire, un'oretta per montare, fare i video, mi sembra poco, e quindi è per quello che non ho fatto video, anche perché se no duravano due minuti, e poi montaggiare la scuola, perché bisogna starci dietro come montaggio, come cose. Poi l'altra notizia era che a porta della piscina c'è una spiaggetta piccola, bella. Poi vi farò vedere anche quella, una cosa che mi sono stupito, so che tanti amano fare surf in queste isole, e ho visto anche perché c'è un casino di vento, un giorno sono andato a vedere su una spiaggia, c'erano belle onde, c'erano dei ragazzi che facciano surf, bellissimo. Allora, qua è un'ora in più rispetto all'Italia, quindi ora sono le 1.06, e quindi ci vediamo dopo, vi farò vedere la piscina e tutto il resto, e ora andrò a mangiare, e ho visto che sono più o meno da un paio di giorni qua, e mangiare è super buono, quindi ci vediamo nella prossima parte. Eccoci raga, allora, qua stranamente sta piovendo, ma si sa, perché qua il tempo è molto variabile, ci sono molti numeri di passaggio, è molto lento, e volevo, a continuazione del video, volevo farlo subito dopo pranzo, ma alla fine ho fatto tutt'altro, sono andato in piscina a fare tutte le cose, a divertirmi, e parlando di piscina, vi volevo far vedere com'è, aspetto che mi alzo dal coso, ecco, 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 la piscina è tutta questa, tutta sta roba, grandissima, allora, io mi sono fatto da questo bordo qua, che c'è subito dietro di me, fino alle, aspettate che voi, fino a quella casetta che c'è là in fondo, secondo me sono più o meno, diciamo, 100-150 metri, l'ho fatto in poco, quindi, va bene, va bene, poi, andando avanti, c'è anche una, eh, una spiaggetta, ora, ve la faccio vedere, eccoci qua, la spiaggia, se si vede qua, e il mare qua, sì, tolgo la mano così si vede di più, stamattina c'era la bassa marea, si portava via un casino d'acqua, c'erano tutti gli scogli che ora sono coperti, tutti gli scogli di là che, la maggior parte ora sono coperti, che si vedevano, e, infatti, anche il pontile che c'è di là, ve lo faccio vedere, eccoci, il pontile che è, dove ci sono quei due là, che pescano, se vedete, quella roba con il filo, strano, attorno, è una, un ancoraggio di una boh, e ora è coperto un po' dall'acqua, stamattina era totalmente libero dall'acqua, il pontile si vedeva proprio tutto, quindi l'acqua, ce n'è di acqua, allora, spero che il video vi è piaciuto, mi scuso per la durata, perché sono più o meno 6-6 minuti, se ho calcolato bene, di solito, in questi video che ho fatto, intanto, passa un aereo, eccolo, perché qua, a 20 km, c'è subito il secondo aeroporto, perché ce ne sono tre, uno in mezzo, una a sud e una a nord, e questo qua è quello a sud, e comunque, eccolo, eccolo l'aereo che passa, e comunque, i miei soliti video durano, più o meno una decima di minuti, e questo va a 7 ore, più o meno 7-8 minuti, e con queste ultime parole, vi saluto, vi ricordo che, quando tornerò dalle vacanze, farò un nuovo video, su, di gameplay, e se riuscirò, se mai, fare un altro vlog, giuro per la cittadina, cioè città cittadina, lasciate un like, se volete, iscrivetevi, lasciate sempre un commento, se vi va, e, qui è tutto, dalle palga, ci vediamo al prossimo video, ciao!